Dentro anche Sana Erdona partiti. Fa in vantaggio la papessa nei confronti di The Jointy. Quindi Eleazar, Parminion, Barbareschi dal Nebol, Sorniona. Quindi Sana Erdona più indietro e Jimmy Jett, autore di una partenza non brillantissima. Si va al completamento della prima piegata, ingresso addirittura per il passaggio con la papessa leader nei confronti di The Jointy, Dan Ebol e Eleazar. Quindi ne corda Sorniona, corsia esterna per Parminion che ha di dentro Barbareschi, Sana Erdona e Jimmy Jett che prova a ricongiungersi con il gruppo Parminion. Al passaggio sul traguardo affianca la papessa. Queste due affrontano in avanti la seconda piegata. La coppia alle spalle con The Jointy a largo Eleazar. Eleazar all'interno viaggia a Dan Ebol, quindi Barbareschi, Sorniona, Sana Erdona e in coda sempre Jimmy Jett. Si va sulla retta di fronte con la papessa che si mantiene in vantaggio nei confronti di Parminion che viaggia al suo esterno. In scia Parminion c'è Eleazar, invece in scia alla papessa c'è The Jointy. In quinta posizione è Dan Ebol con a largo Barbareschi, terza corsia invece per Sana Erdona che lascia in più l'ultima posizione Sorniona e in coda Jimmy Jett. Insiste all'esterno della papessa Parminion quando si affronta la piegata conclusiva, prende qualcosa di vantaggio all'avversaria. Terza posizione per The Jointy che ha all'interno Dan Ebol e all'esterno Eleazar, quindi Sorniona con a largo Sana Erdona. Quando i cavalli si apprestano ad entrare addirittura è passato Parminion nei confronti di The Jointy che si lancia al suo esterno. La rincorsa da parte di Dan Ebol insieme a Eleazar, ancora più all'esterno ci prova Sana Erdona con Dan Ebol che adesso va all'attacco di The Jointy che nel frattempo era passato in vantaggio. Dan Ebol che adesso prende vantaggio nei confronti di The Jointy e Sorniona che finisce bene dalle retrovie. Dan Ebol nel finale non ha problemi, vince facile davanti a Sorniona e The Jointy. 4-2-8 sono i numeri ufficiosi per questa ultima corsa del pomeriggio. Vince il favorito Dan Ebol, i colori della scuderia San Lorenzo, il training di Elisa Castelli. Stefano Landinzella, 2.80 alla quota.